Cominciamo subito con la riete. Se volete conquistare o riconquistare l'amato bene, dovrete darvi da fare senza il suo aiuto. Nel lavoro le idee non vi mancano, dovete soltanto cominciare a metterle in pratica. Toro, nel lavoro la settimana sarà un po' più difficile del previsto, ma ecco che le stelle verranno a darvi manforte. Forse non riuscirete a fare tutto da soli. Pazienza, potete sempre chiedere una mano a un collega. Gemelli, la vostra mente vivace ritrova il carburante necessario e il vostro sprint torna a essere competitivo. Lasciate da parte ogni negatività e pensate ora solo al relax e al sano divertimento. Ci vuole proprio. Cancro, in questo momento sentimenti ed emozioni saranno molto importanti per la vostra crescita personale, ma esprimerli bene non è sempre facile. Giocate a carte scoperte, soprattutto con il partner. Leone, la grinta sarà un po' rallentata dalle stelle. Non prendete la salita di petto se non volete fare una brutta figura davanti a tutti. Strano, ma il capo vi coglie con la testa tra le nuvole e anche a voi tocca una bella lavata di capo. Vergine, in questo periodo avete una marcia in più grazie alle stelle. Qualche sogno nel cassetto finalmente si realizzerà. Vi prodigate per aiutare qualcuno in difficoltà? La gioia che ne proverete sarà una bella ricompensa. Bilancia, riuscite in un ballino a recuperare il tempo perduto e a riguadagnare le prime posizioni. Sapete come esporre i vostri progetti, che a tutti già sembrano vincenti? Scorpione, mitigate il nervosismo scatenato da un lieve contrattempo e utilizzate piuttosto le vostre energie in maniera positiva. Recriminare non serve. Nessuno è perfetto e perdonare in fondo non è poi così difficile. Sagittario, occhio ai sentimenti. Probabilmente le avventure non vi interesseranno così tanto, ma penserete piuttosto al concreto. L'idealismo e il romanticismo non sono da mettere da parte. Capricorno, cercate stabilità in campo affettivo, ma non solo. Siete dei veri perfezionisti anche nel lavoro, perciò vi si apriranno ben presto nuove possibilità. La concentrazione è molto importante. Acquario, non sarà così facile organizzare il vostro compleanno e dovrete sforzarvi parecchio per sistemare ogni cosa. Avreste bisogno di una spalla su cui appoggiarvi. Pesci, un'amicizia nata per caso potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di più serio. A patto però che voi vi sentiate pronti per una nuova storia. Non state solo a contare i difetti, ma ammirate anche i pregi di una persona.